A questa fiera presentiamo una novità sulla nostra gamma di frese a 5 assi monoblocco. Consiste in un elettromandrino supplementare con un magazzino automatico che integra all'interno della fresa moderna 5 assi tutte le lavorazioni senza richiedere l'intervento dell'operatore fino al prodotto finito. A questa fiera secondo me si conferma veramente l'evento internazionale per eccellenza. Anche quest'anno a parte la defezione dei clienti russi abbiamo avuto un'affluenza veramente globale da tutti i continenti e per quanto ci riguarda tutti gli anni ci sforziamo di essere presenti non tanto con dei messaggi retorici o puramente virtuali ma con della tecnologia toccabile, tangibile da parte dei clienti. Grazie a tutti.